Metti una sera d'estate con le placide stelle sul capo, la brezza del mare e le luci della città. Il tutto con il sottofondo musicale curato da giovani emergenti che si sono già distinti con la loro voce. Ecco servito Armonia al Miramare, prima edizione di una manifestazione che intende mettere in vetrina i più bravi musicisti locali, grazie alla sinergia tra Comune di Capodorlando e Accademia della Musica. Nella suggestiva location ai piedi del Monte della Madonna si sono così esibiti Federica Cuscunà, Alessio Buscemi, Laura Sauta, Alessandra Di Bello, Luca Agnello, Chiara Paparone. Ognuno ovviamente con le proprie caratteristiche, voce o strumento. Alla fine applausi per tutti e appuntamento già dato per il 2014. Una scommessa vinta perché la prima edizione quello che volevamo era premiare i talenti, la cultura della musica che vorranno c'è, la musica ce l'abbiamo nel sangue, insieme all'Accademia musicale ci siamo riusciti. Uno dei posti più belli di Capodorlando è il Miramare, in una domenica anonima siamo riusciti a portare 200-300 persone. Questo significa che la gente ha voglia di fare, che la gente ha veramente voglia di musica. Capodorlando da questo punto di vista si è sempre distinta, perciò un applauso e un arrivederci al 2014. Felici di aver creato questo progetto Armonia al Miramare che valorizza i giovani musicisti orlandini, con i loro traguardi professionali non solo, contenti per come l'amministrazione comunale, assieme all'Accademia della musica, ha portato avanti il progetto in una cornice stupenda, che è quella del Miramare di Capodorlando. Adesso ci prepariamo per note all'Alba 2013, il classico concetto all'Alba, che spero possa lasciare di stucco, come fa ormai da tanti anni, e come è stato stasera per Armonia al Miramare.